Io, Tevere, sono qui da molto tempo prima di te e lo sarò ancora per molto tempo, dopo di te. Così però non può continuare. Noi siamo nel cuore di Roma. Questi non sono rifiuti, questa è discarica. Vedi che ci siamo persi. Sali di lato. No, 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 no. Se vieni sei un grande, abbiamo guanti, buste, tutto. Non ci rendiamo conto di quanto in realtà facciamo parte di questo pianeta. L'obiettivo del nostro progetto è proprio questo, quello di sensibilizzare, far luce su questa tematica, ma soprattutto valorizzare quello che è questo fiume. Io ho portato qui sotto apposta per farvi vedere la bellezza che ci offre la natura, no? Poi di fatto ci giriamo e troviamo, purtroppo, ahimè, l'insediamento umano. Guarda che schifo, cazzo! Non mi dà proprio speranza, cioè. Il Tevere mi ha insegnato di non fermarsi ai pregiudizi delle persone. Il cupolone di San Piero, tutto da una parte, sai, questo Tevere che cammina, che lo vedi, che è bello, proprio bello. Dimostrare un Tevere che nell'immaginario comune non esiste, ma che in realtà esiste solo se siamo disposti ad osservarlo veramente. Non restate in superficie. Guardatevi dentro. Guardatevi attorno. Non siete poi così lontani da casa. Io, Tevere, voglio essere ricordato così.